Si chiama Matilde Arthandar, è una bella ragazza di 22 anni d'età, è a Norvegia e ha imparato col tempo ad accettare quel corpo che purtroppo è devastato dai nei. E ha un sacco, tantissimi, milioni di milioni disseminati nel suo bel corpo, un corpo però, rovinato da questi nei. Piena di noi dunque, ma la ragazza è coraggiosa e va avanti nonostante gli atti di bullismo e i bulli che continuano ancora oggi a prenderla per i fondelli, a prenderla di mira. Lei non si fa paura, lei non si fa alcuna remora, va avanti per la sua strada e soprattutto utilizza la sua bellezza e il suo corpo per mandare un messaggio a tutte le donne del mondo. Qual è il punto di domanda? Accettatevi, accettatevi per come siete, per come apparite davanti allo specchio di casa, perché accettarsi in primis col proprio corpo significa volersi davvero bene, dovvero amarsi davvero, pensare al fatto che tutti siamo uguali, anche chi ha tanti nei è uguale a me, è uguale a voi. Iscrivetevi, commentate, saluti, a presto.